Ciao Rambambini! Ciao Rambambini! Lui è Rambambina Simone e lui Rambambino Pietro E te sei la Rambambona Io sono la Rambambona Super Rodi No Adesso è Rambambina Ma io sono la Rambambona Sono grande Rambambonciona Rambambonciona Oggi, non ammettere questa bocca Giochiamo con occhio alla Drabbola Trappola Oggi ho la prima nuova E io oggi Non hai niente di giro E io oggi Ho fatto un giro sotto la neve Alla faccia vostra Anche noi Questo giochi da 3 anni in su Si può giocare da 2 più giocatori E siamo in? Siete sicuri? Uno, due, tre Siete sicuri? Si guardate A giocare tutte e due Mi buttete sempre però Dai, dobbiamo in tre Si ma ma se Dopo si gioca Ora lo scopriamo subito Io non so Non manco ma poi Eccolo qua Allora queste sono le carte Ah apriamole Io so come si gioca Si e spiegalo spiegalo ai bambini Qua ci sono le modalità da scegliere Così è quando è chiuso Se volete mettere Aspetta Aspetta Faglielo vedere prima Se volete mettere la modalità facile Basta che si senta un click Media così E difficile così Ecco noi mettiamo la modalità Facile Meno male Mettiamo tutte le carte del formaggio E noi quando tocchiamo qua La trappola ci colpisce Una alla volta Una volta che ci colpisce Siamo presi E abbiamo Dobbiamo cercare di prendere La carta Senza Colpirci E comincia il giocatore più piccolo Quindi Simone si fa una volta al turno Vai Una carta Vai Bravo Vai Pietro Aspetta Pietro Petti la mano qui Ma è proprio piccolo Come il formaggio Ciao Vediamo Ho detto io Vai Simone Facci vedere come l'hai presa Facciamo facile facile Dai Ma Ma La te li spingi un po' più indietro Poi spingi un po' più indietro Poi spingi un po' più indietro E' proprio tu Ehi mettine una dentro Non cominciare a imbrogliare Ma no Allora vediamo E' subito Ok si vinti Yeee Allora è un pochino più difficile Vai Così è easy Ah Dopo lo facciano sempre più difficile Ah Dopo lo facciano sempre più difficile Ah Lo facciano sempre più difficile Prego 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 Ah Ciao Vediamo Ah Dai Vai Simone Perchè abbiamo leggito tutte le cose Ma in alto Ieeetra Ieeetra Io però non voglio perdere anche in questo gioco Perdo sempre E io ho quattro stacchi di Ma no Ma no Se non mi ha spinto Eh no 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 Non è giusto Perchè devi sbottare il gioco Non vuoi il gioco Se non mi ha spinto Eh tra male scuse No Vieni qua Vieni qua E poi cosa doveva? Di qua E' ovvio Ah si? Vediamo Ce l'ho fatta Se l'ho fatta Ma lo ho finto Così? I metti Così I metti Vi trovo dai Vie scattare la drappola Ah è 이거 easy Cos'nghèищavi è normale avete spostato tutta quarta questa vai Pietro guarda che tocca a me fai l'embroglione che ti mangio come un gatto come un gatto col topo Luzita hai mai visto tarza? tarza 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 di formaggio siamo un gatto se io ne prendo 20.000 tanto per no prendi uno ma perché non si può solo prendere 20.000 e hai vinto il gioco si si presente tarza quindi io sono tarza tu sei cita e tu sei circle ma no vai io me lo metto in modalità più difficile vai si una volta che ho trovato le tarza facile così ecco l'ho messo in modalità guarda che tocca a me ma io non lo voglio così io te la faccio anche i sentiti io ti attendo vai vai dopo te la faccio un po' più facile ahhh ciao Pietro sentite? tentatore di vittoria vai vai Simone Simone consentite mettila dai dai vai Pietro voglio perdere ah non mi minzi sempre allora vieni su vediamo come perde dai vediamo vediamo dai 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 mi è venuto addosso eh devi stare concentrato ahahah così voglio perdere anch'io voglio perdere proprio con l'altro dito voglio perdere devi stare concentrato ahahah nooo facciamo un bravo facciamo un bravo vai 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 ahahah tutti indietro tutti indietro ma no hai parato io non l'ho fatto io l'hai fatto tu che è imbrogliato no si e poi io non ce l'ho le uniche ahhh riprova riprova dai riprova non è perchè stavo toccando lì dai ah mi dispiace ho fatto riprovare ma io non voglio fare eh facciamolo facile questo giro dai abbiamo fatto un po' tutte le modalità dal più facile al meglio al difficile grazie ah fatti tu ah io lo faccio facile dai se no ci metto un po' più ahahah ahahah no perchè non devi montare ahahah 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 toccati hai qui ahahah un'altra volta voglio fare il bene vai 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 ho quello che ho metto dal cordaggio al formaggio e mettila è la prima che lo faccio non è successo niente ma c'è la prima aspettiamo? prego allora vediamo 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7 e tu 5 chi ha vinto questo giro? dai allora visto che mi sento buono vi faccio scegliere il prossimo gioco che faremo che gioco faremo? cucina il tablet decidetevi vedetevi d'accordo tablet giochiamo meccaniche va bene allora seguitici che la prossima volta giocheremo a quello che ha detto lui che non so cosa sia meccaniche è un gioco per il tablet o computer bambini mandateci un tablet mettetevi piace, commentate e mandatelo in computer iscrivetevi al canale giusto? si ciao è una bambina 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 è è è Grazie a tutti